Molto volentieri, effettivamente arriveranno altri video, sto solo aspettando che mi arrivino delle cose perché devo cambiare l'estetica appunto del mio Kindle con cover nuova e questo qui nuovo e adesivi nuovi sto solo aspettando che mi arrivi tutto e oggi acquistiamo insieme il mio prossimo libro finalmente mi sono decisa e ho scelto cosa leggere, ci ho messo un po' però mi sono detta mi serve qualcosa di breve, però carino, scorrevole, coccoloso insomma per questi giorni io leggo sempre la sera, quando ci sarà Sanremo, prossima settimana, non leggerò quindi vorrei un libro da leggere praticamente tra oggi e lunedì, in due serate praticamente e credo proprio di aver fatto una scelta molto molto giusta quindi ora giro la fotocamera e vi faccio vedere su quale libro è ricaduta la mia scelta allora eccoci qui, vi faccio subito vedere cosa ho scelto eh sì, la mia scelta è proprio questa perché ne ho sentito parlare e sono troppo troppo curiosa di leggerlo non è troppo lungo perché alla fine sono 268 pagine cioè io vengo da un libro da 600 pagine che ho letto in 3 o 4 giorni per cui penso che nell'arco di due serate riesco a leggerlo e in più il prezzo è perfetto, quindi assolutamente valido compriamo 5 euro ed eccolo qui eccolo apriamo, voglio vedere almeno l'inizio tempo di lettura tipico 5 euro e ci legge subito questo che carino ecco questa cosa mi dispiace perché la copertina di questo libro è rosa, tutta bellina, super girly e ovviamente con il Kindle questa cosa non c'è però fa niente andiamo avanti direi che iniziamo subito bene questo libro è per tutte le ragazze nerd del mondo soprattutto quelle che vanno matte per i giocatori di football strafighi i gatti, star wars, la storia fantastica, che cos'è? sarà tipo la storia infinita, non lo so he-man e naturalmente nemmeno a dirlo le ciambelle, i biscotti e la torta noci pecan cioè già con questa intro mi hai conquistata sembra davvero stupendo, ovviamente vi farò sapere e quindi vi farò sapere